Parliamone insieme Spazio comunicativo a cura dell'amministrazione comunale di Fermo Buongiorno a tutti, eccoci qui ben ritrovati, buongiorno Sindaconella Brambatti Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici Nuovo appuntamento con Parliamone insieme, la rubrica a cura dell'amministrazione comunale di Fermo Tra l'altro molto seguita anche il sindaco dalla stampa locale che il giorno dopo Riproduce Esatto, vi ricordo che se volete interagire con il sindaco potete porre le vostre domande allo 0734 62 0707 Oppure chiamare, oppure mandare un messaggio tramite la nostra e-mail a diretta Chioccioladiofermo1.it o alla pagina facebook di Radiofermo1 Iniziamo questa conversazione sindaco perché sono tanti gli argomenti Partiamo nell'immediato da un evento che ci sarà fra poche ore alle 11 se non sbaglio Sì, sì, alle 11 Ecco, ovviamente tutti sono invitati perché cosa accadrà sindaco? Ma in effetti diciamo l'atto ufficiale con i quali avviano i lavori del parcheggio che è previsto adiacente alla piscina comunale Era un progetto direi incluso nella convenzione che si era stata fatta per il permesso a costruire E quindi che prevedeva in quell'area non solo il supermercato ma anche delle palazzine Quindi nella convenzione c'era l'obbligo da parte del privato di avviare un parcheggio E il privato non ha aspettato i tempi di scadenza che sono di 5 anni ma partirà in tempi rapidi Insomma in effetti diciamo il progetto è pronto e loro hanno già avviato i lavori Tra l'altro abbiamo visto anche quella che è un po' la proiezione, il progetto di per sé il disegno Insomma la grafica al computer è un progetto che va ad integrarsi sia con la scarpata di fatto anche riqualificandola Perché così non è che sia un bellissimo Allo stesso tempo va a risolvere, insomma comunque contribuisce all'emergenza parcheggio e all'ospedale Sì anche perché accanto al parcheggio c'è un percorso meccanizzato che consente di arrivare a via Baglioni mi pare Che in questo momento è una via chiusa quindi c'è il percorso meccanizzato, l'attraversamento della strada E da questo punto di vista diciamo si facilita l'accesso e secondo me è molto importante Perché comunque pensiamo c'è la fruizione della piscina, la fruizione del poliambulatorio e anche quella dell'ospedale C'è un grande intassamento in via Murri ma soprattutto dobbiamo pensare, per questo ci stiamo muovendo in tempi rapidi All'apertura del lato di via Speranza dove ci sarà l'accesso al nuovo pronto soccorso Vorrei precisare che la ditta ci sta lavorando a tempo pieno E dovrebbe essere pronto tra un mese e mezzo e mezzo anche il reparto neonatale e la ginecologia Quindi alla luce di tutto questo è bene avviare anche se c'è la navetta Ma la navetta non può soddisfare quelle che sono le esigenze di coloro che accedono a questi servizi E quindi è bene che andiamo ad integrare in tempi rapidi perché quello non ci vorrà molto tempo Si parlava di un anno, un anno e mezzo Ma io penso che ce la possano fare senza problemi Perfetto, quindi l'appuntamento per la cerimonia di posa della prima petra Una cosa importante è che c'è un accordo con l'istituto per geometri E quindi i ragazzi potranno fare anche gli stagi all'interno del cantiere Quindi questo secondo me Uniamo l'utile alla parte più che dilettevole alla formazione Al percorso formativo di tipo pratico che secondo me è fondamentale per la scuola Bene, quindi alle 11 in via Bene noi lo seguiremo in diretta nel corso di Sabato Live Ci collegheremo con la nostra Chiara che sarà proprio lì per seguire la cerimonia Intanto Sindaco, lei parlava di formazione E' stato avviato un progetto interessante che mette da una parte racconta e comunque sensibilizza Per quanto riguarda le problematiche e le necessità infantili Perché noi parliamo spesso di necessità dei cittadini eccetera eccetera Però dimentichiamo anche che c'è un mondo, quello dell'infanzia Che tra l'altro rappresenta il nostro futuro Che deve essere tutelato e allo stesso tempo deve essere educato tramite la scuola Formato ad essere cittadini poi del futuro E il comune come amministrazione avete avviato un progetto che riguarda il sociale Ma che allo stesso tempo unisce l'educazione Quindi tocca entrambe gli aspetti Di cosa si tratta? Direi che è un percorso molto articolato Che prende in esame sia il percorso di crescita culturale E della formazione del bambino e dell'adolescente Ma senza dimenticare tra l'altro quelle che sono le problematicità legate All'adolescenza in modo particolare E senza dimenticare anche le situazioni di disagio Spesso familiare Ma spesso anche dovuto a Direi a una povertà manifesta Che non mette i bambini Tutti sullo stesso piano Soprattutto a livello di servizi Quindi sotto il profilo della formazione e della crescita Noi abbiamo sottoscritto questo protocollo Con il garante dell'infanzia e dell'adolescenza C'è dentro legambiente Abbiamo individuato già un gruppo di lavoro Che è costituito diciamo Da una rete di volontari, di esperti Con i quali elaborare e mettere a rete Un sistema che di fatto per alcuni versi è già consolidato Quindi faccio riferimento a quello che è il percorso della biblioteca Al progetto che invece verrà realizzato nel mese di giugno E che vedrà scrittori che si sono dedicati all'infanzia Che saranno presenti Che ci saranno anche delle possibilità di lavoro Vorrei precisare che fino adesso tante scuole hanno aderito Con un numero enorme di bambini Di bambini Diciamo l'adesione scade alla fine di questo mese Io ho anche pregato i collaboratori Qualora ci siano delle disponibilità di prestare attenzione Anche magari alle scuole del territorio Soprattutto quando faccio riferimento al territorio Parlo ai nuclei dell'entroterra Che molto spesso non hanno Direi questa possibilità anche Di sostanziare progetti per conto proprio Accanto a questo vorrei ricordare Invece che ci siamo anche mossi tenendo conto Di quelle che sono i disagi Anche dell'infanzia e dell'adolescenza Quindi vorrei ricordare Questa sperimentazione di psicologia scolastica Che è già avviata E che ha visto un protocollo Con l'ordine degli psicologi Della regione Marche Ed è un progetto unico A livello direi Non solo regionale Ma quasi a livello nazionale Poi Altri percorsi che si muovono Quali sono? Verranno sensibilizzate le famiglie Per quanto riguarda Ecco il problema dell'adozione Perché capisco che in questo momento Sia abbastanza difficile Le famiglie hanno già problemi improprio Quando parliamo scusate Non di adozione ma di affido Ecco ho sbagliato Il concetto dell'affido Non è Non deve essere solamente legato Direi a Non deve essere solamente preso in carica Da Coppie che non hanno avuto figli È giusto che lo facciano Ma l'affido è anche Un'integrazione che dovrebbe essere fatta Da famiglie che hanno già figli E che consentono proprio Direi a dei bambini svantaggiati O che hanno delle difficoltà Di poter vivere anche un sistema familiare Al loro idoneo Ecco l'affido Io capisco che in questi momenti Specie per le coppie Le coppie che lavorano Le coppie che magari possono non avere Lavoro è molto difficile E' chiaro che un inserimento In una famiglia potrebbe essere Direi a lunga Direi auspicabile Rispetto al fatto poi di poter Dover mettere laddove non è possibile I ragazzi e i bambini negli istituti E quindi questo L'altro percorso che abbiamo fatto Quindi ho già avviato un dialogo Spero che si concretizzi bene Con il direttore del distretto dell'Asura Perché non ci rendiamo conto A volte che le problematiche Anche direi economiche delle famiglie Non consentono anche di garantire Quelle cure Che per alcune Direi specificità Sono più legate Direi all'intervento privato Che non all'intervento pubblico Abbiamo sottoscritto Qualche giorno fa Con la provincia Insieme all'ambito 19 E l'ambito 20 Un protocollo di intesa Col Sido Che praticamente Ha al suo interno I dentisti Per Dicei un percorso Di moranitoraggio Per i bambini Soprattutto Diciamo Per i bambini E di famiglie affidatarie Ma secondo me Ci sarebbe anche la necessità Di integrare Con alcuni Direi controlli E favorendo In modo particolare Quei bambini De cui famiglie Non si possono ormai Più permettere Nemmeno Una visita Al dentista Visita medica Vorrei Vorrei ricordare Che non è Direi nuovo Ne inventato Leggiamo in questi giorni Che Molto spesso I dati Che emergono Fanno riferimento Ad una rinuncia Di cure E terapie Da parte Della nostra comunità Perché Non è nelle condizioni Di potersene pagare Penso che da questo punto di vista Ci sia da lavorare E da lavorare molto Ecco Quindi come Come spiegava Un doppio intervento Perché Sì da una parte Appunto si riguarda Evidentemente Il sociale Per le problematiche Che ha appena evidenziato Però dall'altra Va anche a interagire Con le scuole Assolutamente Sì Il progetto lettura È un progetto Con le scuole Il progetto ambientale Con le scuole Vorrei ricordare Il percorso Della bandiera verde Che l'anno scorso È stato Dato Alla Alla scuola Leonardo da Vinci Vorrei ricordare Anche questa sperimentazione Di una Orchestra Per bambini Che è già partita E quindi direi Le possibilità O le modalità Di intervento Di formative Interattive Sono tante Alcune Possono essere Anche delegate Faccio riferimento Agli oratori Le parrocchie Altre sono Legate In modo particolare Al mondo dello sport E altre invece In sistema di rete Vengono gestite Dal comune Ma io penso Che sia opportuno Mettere tutto quanto insieme Proprio Per non Direi Sprecare Energie E valorizzare Meglio Tutto quello Che viene fatto Nei confronti Di questa fascia D'età Che a mio avviso È molto delicato Ecco Ricollegandoci a questo Sindaco Lei l'ha accennato Poco fa Però approfondiamo Questo evento Io ho avuto modo Di conoscere Di parlare Qui radio Con l'organizzatrice E ho visto in lei Un grande entusiasmo C'era anche Mary Quando l'abbiamo incontrata Festival della letteratura Chiamano così Per ragazzi Di letture Per ragazzi Eccetera Fermo diventerà La capitale Della letteratura Per ragazzi Un progetto Che è collegato Con Cagliari Che diciamo È la madre Da dove è nata Da dove è nata La cosa Ora Il progetto Arriva a fermo E come ci ha raccontato È veramente bello Perché il centro storico Si trasformerà FIDEM la biblioteca Eccetera In spazi Per bambini Insomma A misura Di bambini Addirittura Piazza del Popolo Cambierà nome Insomma In quella Fine settimana Si trasformerà Fermo No sindaco? Ed è un progetto Direi molto Molto bello Tra l'altro Tra l'altro Pur Vivendo noi In un Diciamo in un'epoca In cui la tecnologia No? E diventa anche Che diventa Diciamo Il primo linguaggio Io penso Con i quali Si muovono I nostri bambini Perché io li vedo Fin da piccoli No? Ancora Il libro resta Traballano Sulle gambe Però intanto C'hanno un iPad In mano Un telefonino Il libro Viene considerato Come una cosa Pesante Noiosa Invece La creatività Che può stimolare Una pagina Un colore Un racconto È È importantissimo E quindi è anche giusto Che possano Recuperare Anche Sul loro iPad Con gli ebook Quindi la possibilità Di leggerselo Ma Ritengo anche Che debbano Anche gustare E avere il piacere Di sfogliare una pagina Magari di piegarla Magari di colorarla Di farci le orecchie Come faccio io Però E poi Comunque sia la pagina E poi Arricchire un linguaggio Che sta diventando Sempre più asfitico Insomma Abbiamo una bellissima lingua Però purtroppo Si parlava un po' Di una patologia Di un linguaggio Da sms No? Quindi con K Al posto del ch Non vorrei che Ritornasse fuori Sempre questa idea Che io detesto Che Alcuni Miei Anche collaboratori A fronte Di qualche momento In il quale Io posso essere Anche un po' Brusca Ma motivatamente brusca Devo dire Non lo faccio mai A caso Ma Più No Ha ragione Il concetto Della professoressa Vabbè Quella è un indole Vedo anche Mio padre Uguale Emerge Quell'impostazione Quindi Come dicevo Però Una riscoperta No È assolutamente Importante È assolutamente Importante Anche perché Ecco Dicevo Importante Per recuperare A volte Un linguaggio Che attraverso La scrittura La videoscrittura I telefonini Gli sms Hanno perso Di consistenza Ecco Da professoressa Direi che Abbiamo un congiuntivo E anche il condizionale Vabbè Ma Starò attento Allora Se le devo mandare un sms Devo pensarci due volte Sindaco Perché Ogni tanto Un che col capo Un per Con la x Con le I capa Sembra più Una pagina di matematica Che non per cose Ecco Quindi avvertiti Attenzione A mandare sms Al sindaco Perlomeno Veloci Che se rinasce Leopardi Ci fuggila Sì Soprattutto A noi marchigiani Sindaco Quindi Allora Questo appuntamento Ci sarà a giugno Sì a giugno 6-7 giugno Bene Però io direi Ecco vorrei ricordare Una cosa bellissima Che passa sotto banco Anche perché Avviene sempre di mattino Noi abbiamo Questo Questo progetto bellissimo Che c'era dai miei tempi Da quando io ero giovane Cantiamo l'opera E quest'anno E quest'anno ci sarà La Ida Allora I ragazzi Dunque L'opera Ha i cantanti Sul palco E ha l'orchestra Nel Golfo mistico Molto spesso Le opere Le costruiscono Anche attraverso I supporti Multimediali Che sono affascinanti Per loro I ragazzi O cantano Oppure suonano Quindi si preparano All'opera Durante l'anno Dunque Noi abbiamo avuto 6400 presenze In un anno Nello spettacolo Che noi abbiamo dovuto Fare per due giorni E non ricordo Se l'abbiamo dovuto Prolungare per tre Perché abbiamo avuto Tante richieste Tra l'altro Delle richieste Non solo Delle scuole Qui della provincia Ma sono venuti Dall'Abruzzo E sono venuti Anche Quindi noi parliamo Del Pesarese L'Anconetano E anche quello È un percorso Direi importante Altrimenti Noi rischiamo Che una parte Della nostra cultura Diventi sia tabù Per le nuove Generazioni Ed è bello Vederli Veramente affascinante Lo spettacolo Dell'opera Anche perché Sindaco Penso sia assurdo Il fatto che All'estero Ci imitano Male Per quanto riguarda Le nostre opere I nostri grandi compositori Vengono esaltati E forse anche un po' Eccessivamente Perché un conto Rappresentare un'opera Noi forse abbiamo La descrizione Del dire Ok se abbiamo i mezzi E le capacità per farla La facciamo Altrimenti Una stagione rinica In un teatrino Così da noi Sarebbe impensabile Mentre all'estero C'è questa grande cultura Per l'opera italiana Cosa sulla quale Nel nostro Nel nostro paese Si sta un po' Perdendo la sensibilizzazione Quindi questo va proprio A interagire in quest'ottica Innanzitutto perché Non grea un vuoto Tra Un vuoto Tra una generazione Che non sa più Affrontare Il percorso del teatro Il percorso dell'opera Tra l'altro Tu facevi riferimento Poco fa Quanto invece La nostra musica E l'opera in particolare Si è apprezzato Io vorrei solo ricordare Che al conservatorio di Fermo Io spesso gli ho detto Vedo I ragazzi I giovani Che vedete Sono cinesi In modo particolare Coreani No? Non tutti quelli Che si incontrano in piazza Sono Appartengono Alle comunità Che qui lavorano Ma molti di loro Sono studenti E Il conservatorio Ha dovuto mettere Il blocco Nel senso che Rispetto a quanti Si erano presentati Per frequentare I corsi di canto Poi ha dovuto fare Una selezione Perché Non c'erano posti Disponibili A sufficienza E Non solo Sono Sono Cinesi Orientali Ma sono anche russi Tra l'altro Ci sono E tra l'altro La Russia È anche Nota Per una Grande tradizione Direi Musicale In questo caso Per quanto riguarda La lirica Molti si rivolgono All'Italia E Direi Il conservatorio Di fermo Di fermo Avviato anche Dei contatti Con la Cina E E Quindi Questo sta a significare Proprio Quanto la formazione Musicale Soprattutto Quella operistica Sia apprezzata All'estero E quanto siano Di riferimento I nostri insegnanti Ecco Sindaco Mi ha dato l'assist Per andare Nell'ulteriore A affrontare L'ulteriore argomento Mentre parla Stavo pensando A questa cosa Fermo di fatto Abbiamo Il conservatorio Quindi la preparazione Come si vuole Anche con i corsi Di canto E la stagione lirica Al teatro dell'Aquila Quindi Un'affinità Abbiamo Un'università Di ingegneria Che forma Ragazzi Che molti dei quali Possono trovare Appunto Lavoro concreto Nel distretto Calzatoriero E non solo Perché comunque Abbiamo Un discreto Della meccanica Dei computer E anche Poi abbiamo Infermeria E comunque L'esigenza Di infermieri Anche Nelle nostre strutture Ospedaliere Sono Quanto mai evidente Quindi ecco Questa corrispondenza Tra percorso di studio Offerta di studio E concretezza Di fatto Perché noi Adesso Vabbè Stiamo aspettando Vedremo cosa accadrà Bene i culturali Però abbiamo Una facoltà Come ingegneria Che di fatto Crea ragazzi Che trovano Praticamente Subito L'impiego E non per forza Sono costretti Ad andarsene Perché di fatto È un territorio Che ha bisogno Di queste figure No? Direi tra l'altro Proprio il percorso Fermativo Della facoltà Che è affermo Quella della logistica E sulla quale Diciamo Grazie alla quale Poi si muove Il percorso Direi di Di ristrutturazione Di Proprio di Di funzionamento Intelligente Nelle nostre aziende Io ho avuto modo Di incontrare Il rettore Dell'università Di Ancona Della Politecnica Delle Marche La settimana scorsa Direi tra l'altro È una persona Squisita E una persona Molto legata A fermo Perché è stato anche Insegnante A fermo E quindi Ha molto a cuore Questa facoltà E nella Conversazione Che abbiamo avuto Ha mostrato Anche attenzione E volontà Proprio a sostenere Ulteriormente Il percorso Di laurea Sarà presente Anche con noi A tipicità Perché ha voluto Che la Politecnica Fosse rappresentata Anche per le sue Specificità In modo particolare Vorrei ricordare Anche la facoltà Di Agraria Sì Quindi Diciamo C'è una piena Disponibilità Al lavoro Insieme alla facoltà Di ingegneria E tra l'altro Hanno una buona Convivenza Con La facoltà Di medicina Quella che prepara I Direi Le scienze Infermeristiche Ah E Hanno un buon polo In via Brunforte Gli studenti Sono tanti Insomma Quindi ecco Un dato positivo Adesso Ovviamente anche L'opinione pubblica I giornali Sono soffermati A parlare I beni culturali Ma ecco Ci sono anche Quest'altra realtà Quindi conservatorio Corso infermieristico E ingegneria Logistica Che rappresentano Comunque Io All'incirca Penso che siano Settecento studenti Giù Ne sono più di cinquecento Al conservatorio Vengono poco percepiti Ma di fatto ci sono E come dicevo Quelli che Gli stranieri Che frequentano Praticamente Vivono Vivono A firmo E non sono Gli studenti Che Durante il weekend Si allontanano Proprio perché Vengono da Altri paesi Insomma Da paesi Tra l'altro Lontani Dall'Italia Allora Concludiamo Sindaco Con Le cose da dire Sarebbero tante Parliamo Torniamo A parlare Delle frane Perché Ci sono stati Degli sviluppi Per quanto riguarda Diciamo Le segnalazioni Delle frane Giovedì Se non sbaglio Era la scadenza Sindaco Dunque noi abbiamo Presentato Giovedì scorso Tutto il prospetto Relativo Alle frane Dà Alla regione Perché la regione Direi La protezione civile A livello regionale Ha stanziato Questi milioni di euro Il commissario Regionale E il dottore Reficini Che è il responsabile La protezione civile Regionale Noi abbiamo inviato Tutte le schede Ma contestualmente A questo Avevo già avviato Un percorso Con Direi I responsabili Della polizia Municipale E dei lavori pubblici Nel senso Che io ho chiesto loro Di avere una lista Di tutte quante le frane In modo Al di là Della progettualità Di stabilire I tempi Di intervento Vorrei ricordare Che Insomma Gli interventi Debbono essere Integrati Con i fondi Della regione E speriamo Che Per quanto riguarda Gli interventi Che noi dovremmo fare Dovuti a questa emergenza Sia vera Veritiera Sia veritiera Io lo dico così Perché Poi non si sa mai La Direi La Sia veritiero Quanto ci hanno detto Perlomeno Che Gli interventi Della emergenza Sono fuori Dal patto Di stabilità Se noi siamo In un mare di guai Cioè però Vorrei segnalare Una cosa Il consiglio comunale Ha adottato Il regolamento Della polizia rurale Che a questo punto Renderemo Operativo In maniera Più drastica Perché I nostri Terreni Sono quelli Che sono Ma se Le frane Vanno poi A Direi A compromettere La viabilità E quindi A questo Poi Di questo Risponde L'amministrazione Comunale Il comune Ma è anche vero Che molte Di queste frane Sono dovute A una Cattiva Gestione Dei terreni E In modo particolare Gli interventi Dei terzisti Quindi E' venuta meno Quella che era La normale cura E attenzione Che veniva dedicata Alla gestione Dei fossi E anche Diciamo Dei terreni Stessi La conduzione Fatta dai terzisti Ha aggravato La situazione Cioè Quanto meno Ha ribaltato In termini negativi La situazione Perché non c'è più L'interesse Nella cura Del podere Bensì Nel solo Sfruttamento Nello sfruttamento Diciamo arrivando Fino ai limiti Dei terreni Ma soprattutto Andando laddove Lo fanno Molto probabilmente Molto spesso I solchi Non sono quelli Diciamo Strutturati O pensati In maniera tale Da garantire Un corretto Coinvogliamento Delle acque E a questo punto Insomma E' anche giusto Che se da un lato C'è la superficialità Della gestione E poi dopo Un cittadino Perché poi Di fatto Se pensiamo Gli interventi Nascono Da che cosa Da quello Che noi paghiamo Quindi di fatto Sono gli stessi cittadini A dover sanare La situazione La cattiva gestione Del territorio Fatta ad altri Non dico Che tutto Sia dovuto Solamente Ad una Direi corretta A una mala gestione Direi Con una garante Del territorio Esattamente Questo non significa Ci troviamo poi In altri casi Dove le frane In modo particolare Se ne stanno studiando Alcune Una in particolare Che non è nel territorio Di fermo Ma di competenza Di fermo Dove E' proprio La struttura stessa Del terreno Che ha questo movimento Continuo Direi Poco gestibile Ecco In quel caso Non si fa riferimento Ad una Difficoltà Direi Dovuta All'evento Atmosferico O quantomeno A una cattiva gestione Lì c'è un sistema Frenoso Che è un po' particolare Ci sono delle situazioni Oggettive Che vanno A di là Dalla natura Del terreno Dalla morfologia Eccetera Bene sindaco Allora Abbiamo terminato Dopo Mi bacchettano Che faccio dare Però va bene Sono tante le cose Da dire Allora Ricordiamo Alle 11 Via Beni Per Diamo l'avvio A questo A questo Parcheggio Con la speranza Che in tempi brevi Possa aiutarci A gestire In maniera migliore Migliorativa Quello che è il sistema Che gravita In maniera molto pesante Su quel quartiere E poi se non sbaglio Martedì c'è il consiglio comunale Martedì abbiamo il consiglio comunale Bene Sindaco la ringrazio Grazie per la presentazione Buona domenica a tutti E ci sentiamo Per fare un bilancio Anche di come è andato il consiglio Per approfondire un po' le tematiche Grazie al sindaco Nella Brambatti Buongiorno Grazie Noi ci sentiamo fra pochissimo Parliamone insieme Spazio comunicativo A cura dell'amministrazione comunale di Fermo Radio Fermo